Beh, io parlo ancora da maturanda, quindi devo ancora conseguirla, quindi non posso dire niente perché non vorrei portasse male, però sono sicura che studierò tantissimo, avrò paura ma mi incentiverà e oltretutto noi avremo un esame diverso, quindi non so come sarà, però tutti dicono che sarà più facile, io non lo so, comunque in ogni caso speriamo bene.